Buonasera a tutti e ben trovati con il nostro telegiornale sportivo in diretta, in corso la diciottesima giornata di campionato. Il match che si sta disputando al momento, Lecce-Milan, all'intervallo il risultato vede Lecce in vantaggio sui rossoneri di 2-0. Le altre partite che si sono già giocate, Napoli-Juventus 5-1, Cremonese-Monza 2-3, mentre questa sera alle 20.45 Inter-Ellas-Verona. Il resto delle partite in programma le potete vedere nella grafica con l'Udinese che scende in campo domenica alle ore 15 domani contro il Bologna alla Dacia Arena. Come in ogni vigilia di match, quest'oggi si è tenuta la conferenza stampa del mister Andrea Sottil. Andiamo a ascoltare un estratto. Di quanto ha detto? Qua siamo tutti consapevoli che non si vince da un po' di tempo e su questo siamo tutti d'accordo, perché è l'evidenza. Però dobbiamo restare calmi e lucidi e sereni, perché faccio due considerazioni. L'Udinese l'anno scorso aveva 17 punti, oggi ne ha 25. E' ottava in classifica. È una squadra che, come dicevi anche tu, giustamente ha sempre fatto la prestazione, è sempre stata all'altezza della situazione. Molto probabilmente, sì, diciamo, già rispondo io, ci doveva essere qualche vittoria in più. Però nella nostra categoria partite facili non ce ne sono e se ne vedono tutte le giornate. Quindi che cosa voglio dire? Che non deve passare il messaggio di vincere a tutti i costi o vincere per forza. Perché vincere a tutti i costi nel calcio è un ragionamento che non torna, non fila. Bisogna vincere. Ma vincere, noi l'abbiamo sempre detto, abbiamo detto sin dal primo giorno che noi giochiamo sempre per vincere. Ma non a tutti i costi, non siamo nelle condizioni di dire che dobbiamo vincere a tutti i costi. Non siamo in situazioni pericolanti, non siamo in situazioni pericolose. Come ho detto prima, siamo tutti, quando dico tutti, io, squadra, il team, l'ambiente, siamo tutti consapevoli. Ma soprattutto noi che siamo i protagonisti. I ragazzi che poi sono i protagonisti principali sono assolutamente... Quindi, detto questo, il messaggio è che non va tutto bene, completamente bene, e ci diamo solo pacche nelle spalle. No, siamo consapevoli che domani dobbiamo entrare in campo con quell'agonismo, con quella cattiveria, con quell'umiltà che fanno parte della nostra identità per andare sopra il Bologna e, prima di tutto, sferrare una prestazione da Udinese. E c'è davvero tanta voglia di tornare a vincere la vittoria, è proprio quello che hanno chiesto i tanti tifosi che questa mattina erano presenti al Bruseschi, alla rifinitura per sostenere la squadra. Un'idea, una vicinanza che è partita dal gruppo Curva Nord, con l'adesione di AUC e del gruppo Udinese Club Autonomi, ma chiaramente esteso a tutti i tifosi della squadra friulana. Volevamo fare questo innanzitutto per essere vicini ai ragazzi in un momento delicato. Poi, se vogliamo dirla tutta, è una cosa che porta anche bene, quindi di conseguenza sicuramente domani faranno una bellissima prestazione. Noi ci teniamo tanto a questa gara perché non è un derby, ma poco ci manca con il Bologna, perché ci sono delle rivalità tra di noi e quindi sempre a livello buono, diciamo. Niente, vedo i ragazzi carichi e appunto volevamo dare questa spinta che per noi sicuramente risulterà importante. Beh, noi aspettiamo ormai già da un po' il nostro carissimo Gerry de Lofeu, che sicuramente ci è venuto a mancare in una maniera incredibile proprio per le finalizzazioni, diciamo, durante la gara. Sì, ti dirò di sì, che sicuramente sarà una spinta fondamentale da parte nostra, perché si prevede ancora una volta, vorrei sottolineare, lo stadio quasi sold out. Siamo stati invitati dal gruppo Ultra A e abbiamo aderito a questa iniziativa che, secondo me, darà i suoi frutti, perché sicuramente dopo la carica che gli abbiamo dato oggi vedrai che domani faranno una bellissima partita. Da parte nostra io mi auguro di De Lofeu che sia, che rientri, insomma, che sia a posto e mi auguro vivamente che Betto ritorni al gol, perché è già troppo tempo adesso che non segna. Quindi gli auguro con tutto il cuore di segnare un gol domani. Ed era presente quest'oggi alla Dacia Arena anche l'ex portiere bianco-nero Zeliko Burkic, che ha intervistato da noi, si è soffermato su Silvestri, ma ci ha raccontato anche qualcosa su di lui. Qui con un ospite d'eccezione è passato a trovare i suoi ex compagni, la sua ex società, Zeliko Burkic, portiere dell'Udinese nella stagione 2011-2012, in quegli anni d'oro con Guido Lin. Innanzitutto la prima domanda che ti faccio, Zeliko, è cosa ci fai di bello qua? Sei passato a salutare? Sì, sono passato a salutare i vecchi amici, sono molto contento di venire qua e vedere i vecchi amici, i campi e tutto dall'Udinese. Mi fermo qui due giorni anche per vedere la partita contro il Bologna. Spero che porto anche fortuna perché seguo il campionato e vedo che non si vinca da tanto e credo che domani Udine vince e mette tre punti nella tasca. Speriamo che sia assolutamente così. Tra l'altro da portiere a portiere, adesso l'Udinese nella sua tradizione di ottimi portieri ha Marco Silvestri. Lo conosci, l'hai visto giocare, che portiere è secondo te? Sì, è un portiere molto bravo, è secondo me fortissimo, uno dei migliori della serie a portieri e secondo me è anche una forza dell'Udinese. Gli auguro tutto migliore anche per domani e tutta la stagione come anche agli altri giocatori della squadra. L'ultima e poi ti lascio andare. Qual è il futuro di Zeliko Berchi? Ci hai appeso i guantoni al chiodo un anno e mezzo fa. Adesso come procede la tua carriera da allenatore? Stavo un anno, ero in una squadra in serie A che era successo in serie B, in settore giovanile. Adesso sto guardando qualche opzione per me. Vediamo, sono calmo, calcio è mia vita e spero che qualcosa presto si trova per me. Abbiamo ascoltato in apertura le parole di Andrea Sottil, ma ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico del Bologna, Tiago Motta. Allora sentiamo che cosa ha detto sui suoi prossimi avversari sull'Udinese. Abbiamo visto oggi qualche immagine. Affronteremo una squadra molto fisica, che è un punto forte che hanno in certe situazioni del gioco, ma può diventare un svantaggio in certe altre. e noi a sfruttare. È vero che in questo momento davanti abbiamo delle caratteristiche diverse da quello che abbiamo utilizzato anche avendo Marco, avendo Joshua. Però utilizzando nel modo giusto diventerà la nostra forza, sono convinto. Salve mister. Io invece le chiedo ma a che punto è Zirze? Può essere in panchina, può farcela? Non per Udinese, però il lavoro che sta svolgendo individualmente sta bene, sta migliorando. Speriamo che per la partita della Coppa Italia possa essere già con il gruppo e poter partecipare. Una cosa più importante che è la realtà oggi è questa qua. Hanno sei punti in più di noi. Qualcosa di meglio hanno fatto. E hanno una buonissima squadra. Abbiamo parlato già dei giocatori forti. Hanno Wallace, hanno Beckham, hanno Betto, hanno Success, De Lofeo, hanno tantissimi. Pereira, che ha un'esperienza enorme, un buonissimo giocatore. Hanno una buonissima squadra. E anche noi abbiamo una buonissima squadra. E ci confronteremo domenica per vedere chi sta meglio in questo momento. Però è vero che fino a oggi hanno fatto meglio di noi. Hanno sei punti in più. Queste le parole di Tiago Motta. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera dedicato proprio alle conferenze integrali dei due tecnici sul nostro canale alle 20.45. Ed ora passiamo alla formazione primavera che scenderà in campo anch'essa domani alle ore 11 e affronterà il Cesena in questa quattordicesima giornata di campionato di primavera 1. Un Udinese che arriva da un'ottima prova. Un pareggio in rimonta contro il Verona. Della gara alle porte ne ha parlato il bianco-nero Joseph Abdla. Ecco, adesso arriva la gara contro il Cesena. È chiaro che guardando la classifica è uno scontro diretto. La domanda che ti faccio è proprio questa qua. Insomma, dal punto di vista mentale, il mister come la sta preparando e che cosa vi sta dicendo? Questa partita qui ovviamente è una guerra come tutte le partite e la stanno preparando nel miglior modo possibile per portare a casa i tre punti perché ovviamente è tanto importante così da spaccare anche la classifica perché così ovviamente possiamo andare avanti e non rimanere così bassi. E niente, ora stiamo allenando, il mister ci mette intensità negli allenamenti e tutto così da dare il massimo poi alla domenica quando c'è la partita. La prima parte difficile di stagione. Quanto è stata utile per crescere dal punto di vista anche della mentalità e per capire che oltre alle buone prestazioni serve anche magari maggiore attenzione? Quanto è stata utile quel periodo difficile? È stato molto utile. Ci ha dato tanto perché ovviamente perdere ci dà lezione. però sì ovviamente abbiamo fatto una serie di sconfitte e ora piano piano ci stiamo un attimo adeguando con la mentalità di vincere, di provare a vincere o almeno di portare a casa un punto. E niente, bisogna un attimo allenare bene i punti dove si sbaglia così e niente. Passiamo ora al Pordenone che è sceso in campo questo pomeriggio contro la Virtus Verona 0-0. Il risultato finale in questa gara valevole per la ventiduesima giornata con il secondo blocco di partite ancora in corso e che quindi potrebbero cambiare gli equilibri di classifica. Una classifica in cui il Pordenone è ancora in vetta alla prima posizione. Però chiaramente bisogna aspettare i risultati delle altre partite. Vediamo allora come è andata la gara del Pordenone contro la Virtus Verona nel servizio. Finisce in parità tra Pordenone e Virtus Verona la sfida tra Mimo Di Carlo e Gigi Fresco con i neroverdi che sargono così a quota 40 punti ma hanno molto di che recriminare perché l'occasione era sicuramente ghiotta. A parte meglio il Pordenone con questa palla dentro che Brusca Gin manda verso Palumbi la deviazione al volo dell'attaccante che cerca il suo secondo gol consecutivo. Molto bravo il portiere Sibi a deviare in calcio d'angolo. Solo Pordenone nel primo tempo o quasi con il corner di Burrai prolungato per il destro di Piscopo strozzato e che finisce fuori senza creare particolari problemi alla Virtus che poi reclama un rigore sul finale di tempo per questo tiro di Lombardi che si infrange sul braccio di Burrai. L'arbitro non fischia nulla anche se era evidente il fallo di Fabbro su Brusca Gin in precedenza poi Burrai che tocca forse con il braccio sulla linea l'arbitro fa bene a lasciar correre a quanto pare. Nel secondo tempo Danti subito mette i brividi a festa che però è molto attento sul calcio d'angolo poi poco dopo il colpo di testa di Ruggero troppo centrale per impensierire l'estremo difensore neroverde. Ancora l'azione degli ospiti sulla sinistra con Danti che se la porta sul destro il colpo di testa proprio di Fabbro l'ex Chievo Verona va vicinissimo al gol del vantaggio la risposta dall'altra parte di Candellone che insacca di testa il bel cross di prima intenzione di Torrasi ma si alza la bandierina fuori gioco che vanifica l'esultanza del numero 27 del Pordenone da Benedetti a Torrasi cross di prima intenzione difficile capire da questa immagine la posizione di Candellone che sembra leggermente avanti sull'altro fronte Danti si divora un colossale gol praticamente già fatto con Amadio che lo pesca a un metro dalla porta ma di testa il numero 10 della Virtus Verona la butta fuori e allora finisce 0-0 con il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi porta il Pordenone questo pareggio a 40 e ora si volta subito pagina si deve pensare già alla prossima di campionato ancora una volta in casa contro il San Giuliano City e si avvicina all'appuntamento per la web gesteco Cividale che questa sera alle ore 20 ospiterà al pala gesteco la prima della classe Pistoia mentre domani l'App World West affronterà la Tramec 100 ha parlato del match in programma Cashon Sherrill Oh yes, it's a big matchup for us you know, they beat us the first time I felt like we played a good game even though we were missing a few key players we just have to go in there with a defensive approach you know, they're a good team playing on their home floor but I believe if we stick to our game plan and come out aggressive on the defensive end that'll translate to offense and it'll be a pretty good game Myself along with, I think it was four or five other players we had COVID and I feel better now you know, thankfully no problem since then so I just felt like that you know, if we could just come out and again play defensive aggressively you know, we'll be good you know, we've added two players Alessandro and Diego and they bring, you know, experience and toughness to the team so hopefully, you know we can go over there and make some noise again, we want to come out and have a big defensive presence so we still have some work to be done with that and then again, if we get some stops on defense we're all talented enough on the offensive end to share the ball and put the ball in the hole so as long as we keep those two working we'll be good to go we'll be right back to the team is tornata in pista quest'oggi la Sappadina Lisa Vittozzi nella staffetta donne a Ruffolding in Germania a prova valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon si conferma l'alto rendimento azzurro con il terzo posto azzurre che hanno chiuso con un ottimo 0-4 nelle sessioni di tiro una buona apertura di Samuela Comola due ricariche per Lisa Vittozzi una per Rebecca Passler e una anche per Dorotea Wierer primo posto per la Norvegia secondo invece per la Germania ed è tutto il nostro telegiornale sportivo termina qua io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona continuazione di serata su TV12